In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 53.000 nuovi casi di tumore del seno e un quarto di queste pazienti si sottopone a mastectomia. Sono 13.000 donne l'anno, di cui oltre il 90% pari a circa 12.000 si sottopone ad un impianto di protesi al seno. Lo ha spiegato Marzia Salgarello, presidente di Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus, a margine della presentazione a Roma del manifesto Donna per Donna, per la corretta informazione alle donne che dopo una mastectomia hanno scelto la protesi al seno e oggi sono preoccupate per gli allarmi sul rischio legato allo sviluppo dell'infoma anaplastico a grandi cellule. Ogni anno si deve fare un'ecografia per controllare lo stato della protesi perché è fatta di materiale inorganico e suscita una reazione biologica. Per questo vanno monitorate, ma assolutamente non rimosse, se non ci sono indicazioni specifiche, spiega Salgarello.